finché c'è vita c'è speranza ciao massimiliano ciao anna paola come stai bene grazie tu come stai sto bene sto bene oggi ci apprezziamo a vivere una puntata un po speciale vero eh sì decisamente particolare come puntata un po più intima anche ci vuole quest'oggi ci vuole quest'oggi spirituale allora siamo pronti a fare questo viaggio io lo definisco un viaggio se non ti dispiace assolutamente sì perché come sapete il movimento per la vita è un'associazione laica siamo appunto per la vita quindi diciamo tutte le persone di qualunque fede religiosa sono le benvenute da noi però chiaramente insomma c'è una vicinanza anche con la chiesa cattolica che ci ha sempre sostenuto infatti anche la nostra presenza qua lo testimonia certo è indubbiamente ci sono dei santi direi che premessa generale tutti i santi non è che esiste un santo che non è per la vita no no questo assolutamente lo sono però alcuni in modo particolare nella devozione anche popolare hanno hanno manifestato diciamo questa particolare caratteristica diciamo una caratteristica un carisma particolare noi oggi ne citeremo alcuni anche per invocare attraverso questa trasmissione la loro la loro protezione la loro intercessione certamente certamente come no da chi vogliamo iniziare beh io saprei da chi iniziare allora tu da chi vorresti iniziare io dai santi patroni pietro e paolo visto che oggi solo per questi giorni celebriamo la solennità appunto dei santi pietro e paolo oggi è festa solenne gli apostoli e quindi insomma gli apostoli direi senza nulla togliere agli altri e gli apostoli per eccellenza quelli di cui c'è la statua in piazza san pietro insomma l'uno l'apostolo il primo il primo pietro pietro l'altro la chiesa la chiesa eh sì eh sì l'altro l'apostolo delle genti delle gentini san paolo davvero la sua storia è una storia di amore per da loro storia una storia di amore per la vita famosi pescatori di uomini certo 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 san pietro il pescatore di uomini san paolo è quello che ha portato del vangelo a a tutti i popoli che fino ad allora non erano stati raggiunti raggiunti dal messaggio e quindi veramente tante vite anche umanamente parlando sono nati granate grazie anche alla loro alla loro predicazione perché nostro signore una cosa ci ha lasciato c'è l'amore questo sempre non dimentichiamolo mai eh sì poi però ci sono altri santi insomma da ricordare certamente prima di tutto la madonna in particolare cioè poi della madonna esistono tante come dire devozioni no io per esempio sono stato a fatima sono stato all'urde ho visto veramente a loreto sì ho visto veramente in forme diverse la devozione popolare ma la madonna è sempre vista come una mamma sì io infatti la ribatteggio come altri penso la ribatteggio la mamma celeste di tutti e quindi mi piace questa accezione per lei tu sapevi che però la madonna di guadalupe è la patrona dei bambini non nati questo lo sapevo però l'ho scoperto di recente a dirti la verità mi ha sorpreso mi ha sorpreso tantissimo che non mi aspettavo che fosse proprio lei fosse stata designata lei in un certo qual modo quindi è la patrona dei bambini non nati quindi se vogliamo fare una preghiera per i bimbi non nati possiamo invocare la madonna di guadalupe rivolgiamoci a lei rivolgiamoci a lei e poi c'è san giuseppe padre putativo di gesù e quindi il castissimo sposo della beata vergine maria e anche un po il nostro papà su sì assolutamente è il papà di tutti e quindi insomma viene invocato spesso anche per i più vulnerabili per i più fragili e chi è più fragile del bambino quando si trova nel grembo della madre magari la mamma non sa cosa fare lì è molto fragile il bimbo e quindi san giuseppe lo possiamo invocare anche come il patrono di questi bimbi ma invocato sì sì poi e poi anche per chi non ha una figura paterna sì per chi non ce l'ha questo è vero poi c'è sant'anna la mamma di maria quindi la nonna di gesù sant'anna ti spiego una cosa io grazie a lei ho avuto il suo nome sì 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 perché io mi dovevo chiamare in altro modo invece è arrivata la sant'anna infatti è la patrona delle madri incinte eh sì 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 e anche delle persone cioè anche lei è invocata proprio per le persone vulnerabili soprattutto per i nonni che crescono i nipoti e che quindi assistono i genitori insomma quindi i santi simone anna sono i padroni dei nonni sì sì che sono importantissimi ai nonni sono io non dico sono importantissimi sono fondamentali fondamentali perché secondo me aiutano anche nel rapporto tra genitori figli più di quanto si creda magari uno non non ci fa caso però il nonno e la nonna sono un ottimo un ottimo tramite un ottimo tramite assolutamente poi i nonni sono quelli che viziano un po i nipoti in senso buono ma per questo lo dico per questo lo dico sono molto importanti poi sono più dolci e aiutano nel rapporto genitori figli perlomeno a me e quando gli avevo è accaduto così se non ci fossero stati loro sarebbe stato ben più complicato assolutamente sì assolutamente sì e poi insomma abbiamo uno dei veramente dei patroni del movimento per la vita e cioè san giovanni paolo secondo sì 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 che dire abbiamo parlato anche di di carlo casini sì sì dei loro frequentissimi incontri anche quando abbiamo avuto ospite pino morandini ne abbiamo abbiamo accennato a giovanni palo lui è sempre presente sempre presente perché è un papa che un po ci ha cresciuti anzi un bel po ci ha cresciuti visto la lunghezza del suo pontificato con l'accento sull'ultima certo un papà per tutti sì 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 perché concordo concordo lui ha sempre ha sempre con molto coraggio come dire predicato il vangelo della vita tanto che una delle encicliche più famose si intitola proprio evangelium vite cioè il cielo della vita e quella enciclica sappiamo quanto è stato importante anche per noi del movimento per la vita perché ci ha incoraggiato moltissimo ci ha dato un nuovo slancio in anni in cui non era facile insomma non lo è facile neanche ora però quel testo sicuramente il suo insegnamento e suo magistero unito a quello di papa francesco sì sì ovviamente insomma ci dà veramente tanta tanta energia assolutamente assolutamente lui e papa francesco attualmente sono le le guide le nostre guide a sempre attuali vabbè papa francesco lo è sempre ovviamente e giovanni paolo è la così io lo definisco la stella polare sì sì questo papa venuto dall'oriente dalla polonia sì ha rivoluzionato in ogni senso il modo di pensare sì prima di fare una pausa musicale a proposito di polonia c'è santa faustina covasca covasca che con giovanni paolo secondo aveva un legame non forte fortissimo speciale ecco diciamo parliamo di legami speciali che il termine più appropriato santa faustina è nota per il suo diario in cui ha registrato ciò che gesù le ha detto praticamente sulla divina misericordia tanto che a pescara lo ricordiamo abbiamo un santuario della divina misericordia dove c'è il nostro don remo che salutiamo che salutiamo veramente tanto sì e indovina chi è stato quello che ha avviato il processo di beatificazione di santa faustina covasca e giovanni parlo secondo esattamente per cui santa faustina è la patrona delle donne in difficoltà e dei centri di assistenza delle gravidanze a rischio praticamente è la patrona dei cav cioè dei centri di aiuto alla vita soprattutto perché perché c'è bisogno di misericordia assolutamente ci vuole secondo me gli ingredienti sono tre misericordia compassione e empatia assolutamente sì empatia è ricorrente per me questa settimana è una parola che che ho ascoltato spesso e di cui sto parlando spesso non so per quale motivo questa è la settimana dell'empatia ci vuole anche per le mamme e quindi adesso ci abbiamo citato alcuni santi molto noti poi ci sono dei santi magari non notissimi anche se uno il primo che citeremo lo è ormai che però insomma sono sono santi che come dire insomma accompagnano come dire il cammino di chi crede nella vita sempre primo è notissimo in realtà e parliamo del santo di cui porto il nome san massimiliano colbe il quale ormai lo sappiamo conosciamo la sua storia è stato mandato in un campo di concentramento devo dire che lui per tutta la vita lui era un sacerdote sacerdote giornalista bene quindi ecco perché hanno scelto questo nome per te probabilmente già sapevano che staresti diventato giornalista tra l'altro questo nome lui lo ha preso dal da sacerdote perché all'epoca si cambiava nome quando si diventavano ed era talmente amante della libertà è altro tema di cui come dire si torna a parlare di questi tempi no perché lui appunto aveva fondato le milizie di maria immacolata e aveva un giornale per questo però all'epoca c'era il regime nazista che non tollerava l'esistenza di giornali non controllati direttamente da giornali liberi indipendenti e quindi questa cosa gli procurò parecchi guai nel senso che insomma gebbels non vedeva tanto bene questa cosa prima fu mandato in giappone poi dopo insomma dopo varie peripezie lui finì in un campo di concentramento e ci finì perché perché che cosa aveva fatto aveva nascosto degli ebrei cioè voleva salvare la vita di questi di questi ebrei ha fatto come scindle liste diciamo sì 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 stessa cosa è che cosa è successo quando lui io in quel campo di concentramento sono stato vedere il posto dove lui ha vissuto gli ultimi giorni immagino sia stato poi duro particolare particolare una cosa che abbia dato molta speranza in realtà nel senso che vedere il suo esempio la sua testimonianza di fede mi ha dato molta speranza devo dire la verità è appunto perché lui ha fatto fino alla morte ha fatto un gesto d'amore molto martire tanto è vero che si è offerto al posto di un padre questo padre che aveva diversi figli e quindi lui ha detto no lui non può morire perché i figli muoio io al posto suo insomma un santo più pro life come si dice oggi cioè per la vita pro vita pro vita diciamo di questo e infatti lui è il patrono dei bambini non nati anche lui e quindi insomma viene invocato soprattutto per i più per i più vulnerabili quindi insomma un esempio veramente luminoso sì e soprattutto la polonia ci ha regalato parecchi santi oserei dire un esempio tangibile peraltro con con la sua vita e tangibile in maniera contemporanea peraltro perché uno i santi li vede sempre un po distanti capito invece lui insieme ad altri più diciamo più contemporanei ci aiutano a capire meglio la loro figura il senso della loro esistenza esatto poi c'è un santo veramente particolare si chiama san raimondo non nato e lo sai perché si chiama non nato no di svelaci perché allora qui andiamo veramente nell'antichità quindi le notizie sulla sua vita sono poche però la cosa che pare certa è che lui sia sopravvissuto miracolosamente quando è nato alt perché praticamente c'è stato un taglio cesareo già all'epoca è in pratica la madre è morta nel parto ma lui è sopravvissuto e quindi e poi ha insomma è stato un grande evangelizzatore infaticabile sempre al fianco dei più deboli dei più indifesi eccetera e poi c'è san gerardo maiella che oltre ad essere rodato per i miracoli compiuti in vita perché ha salvato la vita di una ragazza e del suo bambino insomma praticamente lui era famoso tra le altre cose perché le madri che dovevano partorire correvano da lui e quindi in pratica è un protettore diciamo delle partorienti e quindi ci sono anche poi potremmo citare santa gianna beretta molla madre e medico che ha sacrificato la sua vita per salvare tante vite insomma ci fermiamo qui perché l'elenco sarebbe veramente interminabile no ma anche perché il nostro tempo è quasi finito il tempo di dare i nostri contatti io sono contenta oggi di aver fatto questo viaggio particolare con te perché abbiamo parlato di un argomento molto molto delicato e penso molto sentito quindi oggi abbiamo scelto di fare così e secondo me abbiamo fatto bene una figura umana dei santi a volte li vediamo un po come dei modelli da seguire no ho detto che sono li vediamo distanti invece in questa maniera abbiamo cercato di avvicinarveli il più possibile allora che dici siamo pronti a dare i nostri contatti che dici lo facciamo certo allora cominciamo con radio sfranzacchiocciolina diocesi pescara.it che è la nostra mail sms whatsapp 33139 3989 698 siamo sugli 87.6 megahertz telefono e fax 085 690 227 più che altro telefono telefono si rispondiamo non vi preoccupate qualcuno c'è la pagina facebook radio speranza mettete mi piace se non l'avete già fatto youtube instagram radio speranza pescara e niente e poi le varie piattaforme le varie piattaforme online cerchiamo di non dimenticarle per ascoltarci ovunque assolutamente siamo sugli 87.6 megahertz non dimenticatelo mai e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana ciao a tutti ciao ciao ciao